Aumenta la circolazione della variante inglese del Covid in Puglia. Se da una prima quick survey svolta il 12 febbraio scorso la circolazione si attestava al 38,6%, dopo quella di ieri si è passati al 47,5, quasi 10 punti percentuali in appena due settimane. I risultati arrivano dai laboratori di igiene del Policlinico di Bari e dell'Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata che hanno analizzato per conto del Ministero 59 campioni provenienti da sette laboratori diversi. In 28 casi è stata verificata la presenza della variante inglese. Al momento non sono state individuate però né la variante brasiliana né la sudafricana. È confermata la necessità di alzare il livello di attenzione sulla diffusione delle varianti del virus, ha detto l'assessore regionale della sanità Pierluigi Lopalco. La Puglia intanto anche la prossima settimana resterà gialla a quanto emerge dal monitoraggio del Ministero della Salute. La regione ha ottenuto un valore dell'RT di 0,95, un leggero calo rispetto alla scorsa settimana, quando era dell'1,01, ma il dato non tiene conto degli ultimi dati. Il rapporto di ieri tra tamponi effettuati e numero di positivi si è attestato al 13,5%, un numero in leggera risalita rispetto alle giornate precedenti. Su questa linea anche il numero dei pazienti ricoverati affetti da Covid, che secondo l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali in Puglia, il 29% dei posti nelle terapie intensive è occupato da persone positive al Covid, solo un punto percentuale sotto la soglia critica fissata dal Ministero al 30%. Anche il tasso di occupazione dei posti letto di area medica al 35% è sotto di 5 punti percentuali rispetto alla soglia critica.